E' scomparso Giampiero Pina, presidente della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, era ricoverato da alcune settimane in coma farmacologico a seguito di un'ischemia, aveva 72 anni. La regione, al fianco dei lavoratori della Portovesme SRL, il presidente Cristian Solinas, nel vertice svoltosi a Villa Devoto, ha assicurato pieno sostegno per evitare la fermata della produzione. Protezione civile, la campagna Io non rischio, fa tappa a Sant'Antioco. Sabato 15 ottobre si parlerà di prevenzione in caso di rischio idrogeologico. C'è un'ipotesi di creazione di un parco fluviale sul Flù Mendoza. Il progetto di un'area protetta è stato al centro di un incontro svoltosi a Scalaplano. Ben ritrovati su Canale 40, oggi martedì 11 ottobre 2022, è scomparso stamane all'età di 72 anni Giampiero Pina, presidente della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara. Vediamo insieme il servizio. È morto stamane all'età di 72 anni Giampiero Pina, presidente della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara. Era ricoverato in coma farmacologico da alcune settimane, dopo essere stato colpito improvvisamente da una grave ischemia al termine di una videoconferenza nel corso della quale aveva presentato una delle tante escursioni sui percorsi del Cammino Minerario di Santa Barbara, la sua creatura che tante soddisfazioni gli stava dando da alcuni anni. Giampiero Pina, nato a Carbonia, geologo, è stato consigliere regionale dal 1999 al 2004, eletto nelle liste dei democratici di sinistra. Nelle elezioni successive risultò il primo dei non eletti. È stato amministratore delegato della Progemisa, presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ex ente minerario sardo, consigliere di amministrazione della Sfirs dal 1993 al 1996, consigliere d'amministrazione del Big Sardegna e del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, di cui, dopo esserne stato promotore con l'occupazione del Pozzo Sella, è stato anche commissario straordinario dal 2 febbraio 2007 al 3 febbraio 2009. Dopo tante esperienze professionali, si è dedicato con uno straordinario entusiasmo e indubbia competenza al progetto più grande, la creazione del Cammino Minerario di Santa Barbara, arrivando alla costituzione della fondazione il 18 dicembre 2016 nella sala consigliare del Comune d'Iglesias. Da allora Giampiero Pina si è battuto come un leone, insieme ai suoi collaboratori, senza fermarsi un solo giorno, per la promozione e la crescita del Cammino, che ha raggiunto in pochi anni straordinari risultati, grazie anche al sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, che dopo qualche incertezza iniziale lo ha appunto sostenuto. Non si contano i viaggi in Italia, in altri paesi europei, l'ultimo quest'estate in Germania, per stringere accordi per collaborazioni con altri cammini. Uno degli ultimi progetti realizzati è stato quello del sovrappasso sulla strada statale 126. La scomparsa di Giampiero Pina lascia un grande vuoto nel sulci iglesiente, in Sardegna e non solo. Il commissario straordinario, il direttore, dipendenti e collaboratori del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, ricordano Giampiero Pina, geologo ed ex commissario straordinario del Parco Geominerario dal febbraio 2007 al febbraio 2009. Con tenacia e convinzione, nel 2000-2001 guidò l'occupazione del Pozzo Sella presso l'ex miniera di Monteponi, credendo in una valorizzazione concreta e sostenibile dell'ampio patrimonio minerario, ormai dismesso del sulci iglesiente guspinese e fornendo al contempo un impulso fondamentale all'Istituto del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna nel 2001. Propositivo ed instancabile, ricordano ancora, fautore di molteplici iniziative e progetti volti allo sviluppo territoriale integrato ecosostenibile, ha successivamente ideato e presieduto la fondazione del Cammino Minerario di Santa Barbara, che ha portato alla creazione di un vasto itinerario evocativo dell'epopea mineraria del sud-ovest sardo, riconosciuto a livello nazionale ed internazionale. Voltiamo pagina. Si è svolto ieri pomeriggio a Villa Devoto a Cagliari il vertice sulla vertenza della Portovesme SRL. Si è svolto ieri a Villa Devoto a Cagliari il vertice sulla vertenza della Portovesme SRL, convocato dal presidente Cristian Solinas con le organizzazioni sindacali territoriali Filstein CGL, Fenca Cisle, Wiltec, CGL Sardegna Sud Occidentale, UST Cisle, Ui Confederale ed RSU di Portovesme e San Gavino. Hanno partecipato al vertice l'assessore regionale dell'industria Anita Pili, i consiglieri regionali Michele Ennas e Fabio Usai e il ragionier Carlo Lolliri, ex amministratore delegato della Portovesme SRL, oggi in qualità di consulente a titolo gratuito del presidente della regione in materia di industria. Nel corso della riunione, si legge nel verbale stilato al termine, dopo circa tre ore di discussione, è emersa la forte preoccupazione delle parti determinata dalla decisione annunciata dall'azienda di fermare anticipatamente la linea Piombo e di aggiungere quindi nuovi cassi integrati a quelli già collocati in tale condizione nei mesi scorsi, determinata, a detta dell'azienda, da rincari energetici. Una motivazione che, tenuto conto degli utili registrati dall'azienda e dell'ancora forte domanda interna di zinco e piombo, regione e sindacati considerano inidonea a giustificare le annunciate chiusure. Regione e sindacati concordano sull'esigenza che l'azienda faccia immediata chiarezza sulle reali prospettive dei plessi produttivi di Portovesme e Sangavino in un'ottica di corrette relazioni istituzionali-industriali, attraverso un piano industriale, numeri e progetti concreti e valutabili. Le contraddittorie prospettazioni emerse finora da parte aziendale, conclude la nota, lasciano invece temere un allarmante indebolimento del sistema produttivo e forse un definitivo smantellamento dell'unico polo della metallurgia non ferrosa della Sardegna. Al termine della discussione le parti hanno concordato tre punti. L'impegno del governatore della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna di attivarsi con l'attuale governo in carica affinché in questa fase di transizione governativa si mettono in campo tutti gli strumenti utili e necessari ad impedire la fermata delle linee produttive della Portovesme SRL. L'impegno da parte del Presidente della Regione Sardegna a convocare la proprietà Glencore al fine di richiedere la sospensione di qualsiasi iniziativa di fermata degli impianti. Infine la richiesta di proroga dell'attuale cassa integrazione in scadenza al 24 ottobre 2022. La decisione dell'azienda di fermare la linea piombo e aggiungere nuovi cassi integrati a quelli già collocati in tale condizione nei mesi scorsi con la motivazione di rincari energetici è pretestuosa ai limiti della provocazione, irrispettosa delle normali relazioni istituzionali-industriali. Dietro essa potrebbe esserci un malaugurato disegno di smantellamento degli asset produttivi. Lo ha detto il consigliere regionale Fabio Usai al termine del vertice svoltosi a Villa Devoto. Non è un mistero che la multinazionale in questi anni abbia conseguito utili miliardari, ha aggiunto Fabio Usai e nonostante ciò alle prime difficoltà dettate dal caro Energia che peraltro indistintamente colpisce ogni famiglia e impresa del Paese abbia assunto decisioni drastiche senza nemmeno attendere l'insediamento del nuovo esecutivo nazionale. Se oggi l'azienda subisce questa situazione, ha concluso Fabio Usai, ciò è dovuto in parte anche alle poco lungimiranti scelte del suo management del passato quando vennero stipulati gli accordi sulle tariffe energetiche. La Regione Sardegna è protagonista in Europa durante la Settimana Europea delle Regioni e delle Città in svolgimento a Bruxelles questa settimana dal 10 al 13 ottobre. Per il secondo anno consecutivo il programma Eni CBC Bacino delle Mediterranee o di cui la Regione Sardegna è autorità di gestione dal 2007, parteciperà alla European Week of Regions and Cities, principale iniziativa dedicata alla politica regionale dell'Unione Europea, giunta alla ventesima edizione e che vede la Regione Sardegna in qualità di capofila del partenariato insulare per il quinto anno consecutivo. L'evento I giovani per la cooperazione nel Mediterraneo, in programma giovedì 13 ottobre, dalle 11.30 alle 13, mira a mettere in luce il contributo dei giovani nel test delle relazioni euro-mediterranee in maniera attiva, positiva e costruttiva. È fortemente preoccupato l'amministratore straordinario della provincia di Sassari, Pietro Fois, per le criticità del servizio di assistenza educativa nelle scuole secondarie destinato agli studenti e studentesse con disabilità. Il diritto allo studio, ha spiegato Pietro Fois, deve essere garantito a tutti senza alcuna distinzione. auspichiamo un'audizione urgente in Consiglio regionale per trovare nell'immediato una soluzione idonea. Bentornati in studio. Il coordinamento del Sulcis Iglesiente della Rete Sarda Difesa Sanità Pubblica organizzato per sabato 15 ottobre alle ore 16 presso il Centro Culturale Via Grazia dell'Edda ad Iglesia su un convegno di battito pubblico su salute e ambiente nella transizione ecologica e lo smantellamento del sistema sanitario pubblico. I relatori sono Dottor Domenico Scanu, presidente ISDE Sardegna, e la dottoressa Claudia Zuncheddu, presidente ISDE Cagliari e portavoce della Rete Sarda per la difesa della sanità pubblica. Ci spostiamo ora a Sant'Antioco. Sabato 15 ottobre si parlerà di prevenzione in caso di rischio idrogeologico. In Piazza Italia il via la tappa locale di Io non rischio, la campagna informativa promossa dalla Protezione Civile Nazionale. Vediamo insieme il servizio curato da Maurizio Rocci. Quali sono i rischi idrogeologici che interessano il territorio e quali le buone pratiche da adottare in caso di alluvione? Informare, offrire consapevolezza sui pericoli che possono creare le cosiddette bombe d'acqua e più in generale le piogge insistenti è uno degli obiettivi di Io non rischio, la campagna informativa promossa dalla Protezione Civile Nazionale che sabato 15 ottobre, dalle 7 alle 20, sbarca in Piazza Italia a Sant'Antioco. Ad accogliere i partecipanti e parte attiva dalla manifestazione saranno i volontari delle Associazioni di Protezione Civile e Soccorso a Terra Mare di Carbonia e a Sussulcis di Sant'Antioco. La giornata sarà tutta incentrata sulla sensibilizzazione legata al tema del rischio idrogeologico e, in particolare, sulle buone pratiche da adottare nel caso ci si trovi in situazioni di pericolo dovuto alle forti piogge, come, per citarne alcune, non so stare accanto ai corsi d'acqua o all'interno degli scantinati e raggiungere sempre i piani alti dell'abitazione. L'esposizione individuale a rischio idrogeologico, infatti, può essere sensibilmente ridotta attraverso la conoscenza del problema, la cognizione delle possibili conseguenze e l'adduzione di alcuni semplici accorgimenti. Abbiamo accolto con favore l'iniziativa nazionale Io non rischio. Per noi è motivo di vivo interesse poter offrire ai cittadini, ha spiegato Mario Esu, consigliere comunale con Deleghe a Protezione Civile e Ambiente, quest'opportunità di informazione sui rischi che, complici i cambiamenti climatici, purtroppo stanno diventando sempre più frequenti. Il Flumendosa con l'ipotesi della nascita di un'area protetta è stato al centro di un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi a Scalaplano. All'incontro hanno preso parte alcuni esperti che hanno parlato di geologia della Sardegna, del paesaggio fluviale, di alcune peculiarità e specificità di enorme importanza che suscitano la curiosità e l'interesse di innumerevoli visitatori e studiosi. Sono state raccontate esperienze molto vicine a quella che ha iniziato a vivere il territorio, dove, tra il Gerrei e il Sarrabus, si sta dando vita alla prima area protetta fluviale, proprio su quel tratto del Flumendosa, a valle dello sbarramento di Nuraghi e Rubio e sino alla sua foce. Si è parlato anche della governance dell'area protetta, che sarà gestita dalle amministrazioni comunali. Non saranno imposti nuovi vincoli, ma sarà piagevole far rispettare quelli esistenti, ha detto il sindaco di Escalaplano, Marco Lampis. Si possono superare criticità, quali il rilascio del quantitativo minimo vitale a valle degli sbarramenti a vantaggio non solo dell'ecosistema, ma delle altre attività economiche che vi si trovano e si possono insediare e si potrà intervenire per la rimozione della vegetazione in eccesso e degli accumuli di materiale trasportato dalle piene. Il fiume sarà meglio fruibile, non saranno consentite recinzioni e occupazioni di aree demaniali, garantendo così gli accessi dalla viabilità pubblica. Abbiamo iniziato un percorso che richiederà del tempo, ma non tantissimo. Per questo, ha concluso il primo cittadino, è importante che nelle nostre comunità cresca la cultura di impresa e ci si prepari a cogliere tutte le opportunità che anche il Parco Fluviale saprà offrirci. Servono posti letto per l'ospitalità e servizi di accoglienza e di trasporto, serve incrementare la produzione tipica nel settore agroalimentare, occorrono servizi di guida turistico ambientale, la possibilità di noleggio di biciclette e quad, ma anche organizzarsi per la pratica degli sport fluviali. Il Consiglio Comunale di Sant'Antioco è stato convocato in seduta ordinaria per lunedì 17 ottobre, con inizio dei lavori alle 18 e termine entro le 22 presso la Sala Consiliare. Sono cinque i punti inseriti all'ordine del giorno, due variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022, l'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2021, la presa d'atto del progetto di variante Alpai, piano di assetto idrogeologico, l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie delle comune all'ente pubblico nazionale Agenzia delle Entrate riscossione. La seduta è pubblica e verrà trasmessa in streaming sul canale YouTube del comune di Sant'Antioco. Nonostante la normativa non ne preveda più l'obbligo, per la partecipazione del pubblico è raccomandato l'uso della mascherina. In caso di mancato esaurimento dei punti all'ordine del giorno entro le 22, la riunione sarà aggiornata alle 18 del 18 ottobre 2022. Ed ora passiamo alla cronaca terribile incidente sulla strada statale 129 Galtelli-Orosei. Per cause da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente. Purtroppo le gravi conseguenze riportate da una delle due persone coinvolte hanno provocato il decesso di un uomo di 65 anni, residente a Dirgoli. Il secondo conducente è stato assistito dai sanitari e condotto all'ospedale di Nuoro per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Orosei, la polizia stradale di Siniscola e i vigili del fuoco di Nuoro. Gli agenti della squadra volante a Cagliari hanno arrestato un uomo di 23 anni per rapina aggravata. Vittima un giovane che, mentre transitava nelle prime ore della mattina in Viale Trieste, è stato avvicinato da un uomo di origine straniera al quale gli ha proposto l'acquisto di sostanza stupefacente. Il giovane, dopo aver declinato l'offerta ed essersi allontanato, è stato nuovamente raggiunto dal malfattore che ha dapprima tentato di sottrargli il portafoglio dalla tasca dei pantaloni e successivamente lo ha aggredito colpendolo violentemente con calci e pugni. Durante la collutazione l'uomo è riuscito a sottrarre alla vittima il telefono cellulare ed il portafoglio nel quale erano custoditi i documenti personali, bancomat e denaro contante per poi darsi alla fuga. Gli agenti della squadra a volante, ritenuta ricevuta la richiesta d'aiuto al 113, si sono messi alla ricerca dell'uomo e lo hanno individuato e bloccato mentre tentava di fuggire. Dopo un breve inseguimento i poliziotti sono riusciti a bloccare il presunto autore della rapina il quale nel frattempo si era disfatto della rifurtiva. Nel giardino della sua casa, in occasione di un normale servizio di controllo, hanno rinvenuto due piante di cannabis indica, alte 3 metri e oltre 3 grammi, della stessa sostanza già essicata e nascosta in camera da letto. Per questo, ieri mattina, i carabinieri del Norm della compagnia di Dolianova e quelli della stazione di Sant'Andrea Frius hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica un 44enne disoccupato di Sardiana con l'accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ancora alla cronaca, con raggiri e artifici, avrebbe indotto una donna di Muravera a versarle più di 2.000 euro per l'acquisto di un'auto messa in vendita online. Peccato che si trattasse di una truffa che, dopo mesi di indagini, hanno portato i carabinieri del Paese a rintracciare e a denunciare a piede libero la truffatrice, una 46enne di Lucca, già nota per precedenti simili, con l'accusa di truffa. A denunciare il fatto, agli inizi dell'anno, era stata la stessa vittima del raggiro. Da lì l'avvio delle indagini dei militari che hanno poi portato all'individuazione della truffatrice. Addosso e nella sua abitazione hanno trovato due involucri con dentro rispettivamente 85 e 219 grammi di marijuana. Per questo i carabinieri della stazione di Sinai ieri sera hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 57enne del Paese. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l'uomo è stato messo agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima al Tribunale di Cagliari. Grande soddisfazione a Sant'Adi per l'inaugurazione del nuovo parco giochi per bambini in piazza Pepino Sais. Maurizio Rocci. I più felici e sorridenti sono stati i bambini, ma anche genitori e cittadini non hanno lesinato soddisfazione per uno spazio recuperato e finalmente dedicato interamente ai più piccoli. Sant'Adi, da sabato, ha un nuovo parco giochi negli spazi di piazza Pepino Sais, nei pressi del centro sociale. Ad inaugurarlo, grazie alla collaborazione della LAS, la Libera Associazione Anziani di Sant'Adi, sono stati il sindaco Massimo Impera e l'assessore ai servizi sociali Elisena Nedda. Il gioco è un'attività molto importante per i bambini ed è fondamentale poiché permette una crescita sana e contribuisce ad uno sviluppo psicofisico corretto. Gli spazi per far giocare i bambini sono quindi un servizio indispensabile per la collettività perché permettono loro di giocare in autonomia e in sicurezza. Ora, ha dichiarato il primo cittadino, tutti insieme cerchiamo di preservare la struttura. Dall'amministrazione anche i ringraziamenti a quanti si sono impegnati per la riuscita della cerimonia di inaugurazione. Un doveroso ringraziamento va alla LAS, al nostro parroco Don Giulio De Montis e, ha sottolineato l'assessore Aneda, Amoro Floris e Cristiano Piras che come sempre si rendono disponibili per rallegrare gli eventi del nostro paese con della buona musica e tanta simpatia. Durante la manifestazione, infine, in concomitanza con la festa dei noni, sono state consegnate anche le targhe ricordo ai neononi del 2020 e 2021. Nei giorni scorsi si è concluso Cagliari Urban Fest Generazioni Metropolitane, il primo festival di street art e arti visive ideato dall'associazione Asteras nel contesto urbano del capoluogo sardo che da giugno ad ottobre ha fatto dialogare i quartieri di Sant'Elia, Stampace e Marina tra interventi di arte urbana, laboratori, mostre e incontri. A concludere il Cagliari Urban Fest è stata una due giorni di incontri che ha permesso di confrontarsi con le tante persone che hanno partecipato sui molteplici aspetti dell'arte urbana e sulla funzione rigenerante che essa può svolgere nei luoghi che la accolgono. In questo senso le opere di street art, create da Erika Ilcane, Carol Rollo e Mara Damiani a Sant'Elia, in via Schiavazzi e all'ingresso del Parco degli Anelli, non solo hanno avviato un dialogo con il quartiere, i suoi abitanti e quanti lo frequentano, ma hanno coinvolto le giovani generazioni in un processo creativo ed in una pratica artistica che hanno come corollario il prendersi cura dei luoghi in cui viviamo. L'associazione Sarda contro l'emarginazione, Asce, riporta in Sardegna Scani o Celestini di suo monologo I Parassiti, un diario nei giorni del Covid-19. L'attore, autore e regista romano sarà al Teatro Civico di Sina il sabato 13 ottobre 2022 dalle ore 21. Il costo del biglietto è di 10 euro, il ricavato andrà a sostegno delle attività dell'Asce. Storia di Teulada e dei Teuladini è il libro di Salvatore Loi che verrà presentato a Sant'Adi venerdì 14 ottobre. L'appuntamento alla presenza dell'autore è alle 18.30 nell'aula consigliare del municipio. Durante la presentazione Loi ripercorrerà i passi della sua ricerca evidenziando anche lo stretto filo che lega la storia di Sant'Adi e di Teulada, in particolare di zone confinanti e di famiglie che da anni risiedono a Sant'Adi ma che provengono da Teulada. Ed ora passiamo allo sport, precisamente al calcio e siamo in chiusura. Sono in programma mercoledì 12 ottobre e quindi domani le partite di andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza regionale di calcio. Alle 16 si giocano Cosmoto, Monastir, Carbonia, Polisportiva, Ossese, Sassa di Calcio, Latte Dolce e Tarros, Villa Cidrese. Alle 17 Taloro, Gavoi, Budoni. Le partite di ritorno a campi invertiti sono in programma mercoledì 26 ottobre. Ed è tutto, si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale odierno. Vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo per la giornata di domani e con il nostro telegiornale in lingua sarda Noasa in corso. Grazie per essere stati con noi e per l'attenzione. Vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale e vi auguro un buon pomeriggio. Grazie a tutti.